mamma mia mamma mia mamma mia meno male meno male che se fosse entrata quella palla del verona io avrebbe stemmiato tutto il calendario meno male meno male meno male meno male buonasera a tutti ragazzi buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo post partita napoli per una partita finita giustamente oserei dire 0 a 0 è stata una partita a ritmi blandi il verona è venuto qua a napoli per provare a strappare almeno un pareggio però stavano rischiando di vincerla con quell'uno contro uno col portiere poi meno male che ha tirata una ciofeca meno male oserei dire e quindi va benissimo così ma alla fine se vediamo la formazione iniziale titolare del napoli erano praticamente quasi tutte le seconde linee praticamente abbiamo fatto come milan il milan ha cambiato 10 undicesimi di formazione noi almeno 5 6 diciamo che alla fine stiamo all'auto discorso il discorso si può riassumere in stavamo pensando a martedì ok è l'unico pensiero che accomuna entrambe le due le due squadre che si affronteranno proprio martedì ragazzi è una partita sommacchiosa una partita brutta una partita lenta da parte del napoli è una partita con y jesus e dem che praticamente non giocano mai più dem che un y jesus un raspadori che raga io per chi dice raspadori fa schifo raspadori e sopravautato raspadori stra pagato you datevi al carling io io sono un figlio di raspadori io io sono sul carro raspadori io a maggio per chi mi segue da tanti mesi io a maggio ho detto se dobbiamo scendere Mertens oppure trovargli un vice io mi prenderei Raspadori e Raspadori è stato preso, non è che ci voleva un archescienz per ingarrare un acquisto post Mertens, però alla fine è un giocatore che incarna il tutto, ok? Praticamente è una fotocopia di Mertens con meno personalità e meno esperienza e in questa partita si è visto ha sbagliato tanto ha sbagliato tanto, ha sbagliato troppo ok? Quindi ma già si è visto il Napoli è cambiato da così a così con Mertens con Mertens senza Osman e con Osiman ok? Perché senza Osiman si è visto un Raspadori troppo blando, troppo impreciso sbagliava tutti gli stop non è una giustificazione però è una cosa oggettiva che Raspadori non era in in forma non è al 100% poi con l'ingresso di Osiman è cambiato totalmente tutto perché Osiman è il leader è il leader chiama il pressing va a pressare va sempre diciamo a non ha paura né andare col piedi testa cosa che Raspadori non può visto che è alto un metro e una Vigorsol peccato che è scivolato due o tre volte evidentemente il magazziniere con tutto rispetto per sta race avrà sbagliato i tacchetti avrà messo le spugne avrà messo i tacchetti di gomma no? perché si vedeva troppo spesso a scivolare e poi ha preso quella traversa che grida vendetta grida le bestemmie tutte incredibili però alla fine il pareggio è tutto giusto il mass ha sbagliato di tutto Kim sempre il solito Kim Meret poco 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 chiamato in causa ma ripeto la testa era a martedì io allora sicuramente abbiamo fatto una prova migliore se si può dire rispetto a Lecce però i ritmi erano blandi e torna a ripetere ritmi blandi giocatori che non giocavano mai giocatori che non avevano affinità per esempio Lozano a sinistra che ha giocato bene bisogna dire la verità Lozano a sinistra ha giocato bene ma che non ha l'alchimia con Olivera e neanche con Elmas o Angissà Angissà per esempio oggi pure ha giocato bene l'ho visto bello bello presente anche se ha fatto qualche passaggio sbagliato Demme che è la prima partita da titolare se non secondo terza stagionale e ha giocato bene poi giustamente lo ha tolto ma perché perché non ha i 90 minuti quindi ci sta vabbè alla fine il pareggio va bene più a Verona che ha approfittato della sconfitta dello Spezia a noi cambia poco cambia tanto alla fine io ieri l'ho detto noi siamo la squadra che si potrebbe si può concedere qualche piccolissimo passo falso perché stiamo a più qui prima della partita eravamo a più 15 ora siamo a più 16 virtualmente dalla Juve è più 17 no più mi ricordo più più 15 la Lazio o più 14 vabbè comunque mi ricordo ma figurate ah ultima cosa prima che chiudo non date le critiche a Spalletti perché già mi immagino è scema eh Spalletti ha da fare io qua sempre stesso Spalletti qua Spalletti là ma che ha da fare ma io che ha da fare i giocatori non sono Cyborg è vero la squadra è cambiata con l'ingresso di Clara Scheria e Usman ma non sono Cyborg porca pupazza sanna riposà e quale occasione migliore è farli riposare col Verona che si è vista proprio dall'atteggiamento del primo tempo che Verona si ha provato qualche tiro a cazzo per provare a segnare ma alla fine è la vera e unica occasione litida è stata su eh al al novantesimo circa con quell'uno contro uno tra il veronese e Meret ma poi basta alla fine pazienza mi tengo sto pareggio però io martedì voglio Napoli come abbiamo visto a Milano però Napoli molto più cinico e molto più cattivo sotto porta perché voglio questo Usman serve come pane siamo Usman dipendenti? sì sì ma non solo ma non solo anche perché Napoli ha dimostrato di di saper segnare e di saper vincere senza Usman solo che ripeto Raspadori non è seconda punta e Simeone non è punta scusate e Simeone è K.O è ibox quindi dobbiamo fare di necessità virtù un saluto a tutti forza Napoli sempre e ci vediamo domani mattina con le pagelle o domani mattina o domani pomeriggio ok vi dico questo questo orario questo tempo qua ciao a You forza Napoli sempre ma raccomando carichi per martedì sia noi tifosi che si è sentito il ritorno del tifo e sia soprattutto i calciatori io mi aspetto che Spalletti faccia delle diverse fotocopie di tutti i commenti di tutti i video di tutti i post su twitter pieni di odio e pieni di che ci sottovautano fai fotocopia li mette nello spogliatoio e dice guardate aca guardate aca vedete questi li dovete far piangere speriamo speriamo è un risultato quello di Milano abbastanza favorevole perché l'1 a 0 è abbastanza facile però è pur sempre in Milano un saluto a tutti forza a noi per sempre ciao a You